Traverdi? Dicano che questa punta sinistra è più al nord di questa qui, dove siamo noi. Quella era una piccola. E traverda. Toscani. Se avete da questo campino là, tutti questi, le aspettano magari due o tre giorni. Dunque, se prende il necessario per proteggersi del freddo, non si sa mai, prego, non ti medicare. Il bambino del mondo ha fatto questo progetto, se vedi qui, Barna. E sono le seggiorine anche qua. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.